Benvenuti nella sala stampa della Camera per la presentazione di questo libro, il cui autore è qui alla mia sinistra, è un puro fatto logistico, non è un fatto politico, e l'autore quindi Eugenio Cipolla, che è autore di questo libro che si chiama Condannate Berlusconi, frutto di un suo lavoro meticoloso, durato quasi un anno, forse anche qualche tempo di più, per fare un libro che non fosse un pamphlet fine a se stesso e una produzione propagandistica, ma un lavoro rigoroso, ricostruendo le fonti e parlando esclusivamente di fatti, fatti realmente successi, fatti documentati nel libro, di situazioni, per così dire, con un enfemismo inedite che hanno riguardato il Presidente Berlusconi nel suo tormentato rapporto con la giustizia. Abbiamo oggi questa possibilità appunto di presentare il libro e di presentare Eugenio Cipolla, che è un giovane giornalista, ma già padre di famiglia, e soprattutto anche un prolifico autore e persona profonda al tempo stesso, perché non sempre la capacità di scrittura si coniga necessariamente con la profondità della scrittura. E con lui, e poi si presenteranno, perché il moderatore in realtà della giornata è Giovanni Giacobazzi, firma del dubbio al quale cederò tra 30 secondi il timone della nostra avventura, che io devo ritornare di là, dove stiamo lavorando alacremente per voi. E dicevo, con noi appunto Giovanni Giacobazzi del dubbio, alla sua sinistra, in questo caso non so se è in senso logistico, non so se anche in altri sensi c'è il direttore del dubbio, che ci ha onorato e ci onora della sua presenza. E infine, a chiudere la partita, un Pietro De Leo, che è giornalista del tempo, accanto al direttore Sanguinetti, e che appunto anche lui commenterà l'opera di Eugenio, il lavoro di Eugenio. Quindi io non posso fare altro che ringraziarlo per il lavoro che ha svolto, che continua a svolgere, ringraziare voi che siete qui con noi, chi ci segue attraverso lo streaming, ringraziare gli ospiti che sono con noi per entrare nel merito del contenuto di questo libro e augurare a tutti una buona prosecuzione dei lavori. Bene, grazie Antonio per la presentazione. Io due battute, comincerei subito con l'autore, per poi passare al direttore Sanguinetti e poi anche al collega del tempo. Buongiorno, grazie a tutti per essere venuti qui a questa presentazione. Io faccio una piccola premessa al mio discorso, più che una premessa in realtà è una dedica. Volevo dedicare questa presentazione a mio papà che è scomparso da pochi giorni e ringraziarlo per quello che ha fatto per me sia umanamente sia professionalmente, perché se non fosse stato per i suoi insegnamenti oggi non sarei qui a presentare questo libro. Vi chiedo solamente, lui ha lavorato in questo palazzo per tanti anni, da lui ho tratto, Antonio poi lo conosce bene, da lui ho veramente tratto tantissimo, imparato tantissimo e vi chiedo solamente di dedicare a lui in questo momento l'applauso che dovreste dedicare a me più tardi. Grazie. Detto ciò, passando al libro, la premessa che faccio sempre quando mi chiedono perché ho scelto di scrivere un libro sui processi di Berlusconi è che io non l'ho fatto per sostenere o adularlo, perché penso che poi alla fine lui abbia sicuramente sia degli avvocati più bravi di me, penso insomma a Ghedini, penso a Coppi, ma anche dei supporter molto più accaniti, molto più convinti di quanto non lo possa essere io, penso insomma ai parlamentari, ai militanti che ogni giorno si impegnano sul territorio. Io ho scritto questo libro semplicemente per far comprendere, per cercare di far comprendere che quello che è capitato a Berlusconi in questi vent'anni può capitare a chiunque di noi, con la piccola differenza che mentre lui si è potuto difendere, perché comunque insomma è un imprenditore famoso e politicamente abbastanza rilevante, non tutti diciamo che hanno questa sua stessa fortuna. La domanda che ci dobbiamo porre oggi è ma se capitasse a noi quello che è successo a lui, cosa accadrebbe? Ho cercato di analizzare, di raccontare in maniera breve questo libro attraverso quattro parole chiave che sono molto attuali in questo momento. La prima parola chiave che mi viene in mente è trasformismo, che è un concetto che soprattutto in questa location, in questo palazzo ha dei connotati importanti. Nelle ultime due legislatori ci sono stati 439 cambi di casacca e i parlamentari che hanno abbandonato Forza Italia, il PDR e Berlusconi sono stati 202, ma si è indagato esclusivamente sui parlamentari che sono passati con Berlusconi e non viceversa. Penso a Razzi e Scilipoti, non insomma a tutti quelli che poi hanno fatto il percorso inverso. E come insomma diciamo che poi oltre questo ci sono tanti altri aspetti che ho cercato di analizzare all'interno di questo libro, ci sono le 14 anomalie del processo Rubi, insomma con questo fascicolo che è stato affidato a Hilda Boccassini che si occupa di reati antimafia e non di reati contro la pubblica amministrazione e le 28 anomalie del processo Mediaset che poi insomma dovrebbero portare quanto prima alla riabilitazione politica di Berlusconi. Insomma questo è un processo abbastanza lungo che Berlusconi stesso insomma si augura che avvenga entro quest'anno. Io ne cito solamente tre e poi insomma lascio la parola agli altri redatori e secondo me sono le più importanti. Allora ad esempio la prima, i giudici scrivono che Agrama era un socio occulto di Berlusconi, però negli stessi anni in cui vendeva diritti a Mediaset vendeva anche diritti alla Rai. La prescrizione è stata spostata in avanti nonostante le tantissime accuse contro Berlusconi di aver fatto leggi ad persona, la prescrizione in questo processo è stata spostata in avanti e non è insomma la prima volta che è accaduto e è accaduto anche nel processo Mills. E poi la terza che insomma fa anche un po' sorridere perché Berlusconi è stato accusato di aver messo in piedi un sistema gigantesco di frode nelle annualità 2002-2003 anni insomma avvieno in cui Mediaset ha versato al fisco 567 milioni di euro e i PM hanno contestato a Berlusconi un'evasione di 7,3 milioni di euro. Cioè Berlusconi secondo i magistrati si è messo a rischio di una condanna per l'1% di questa totalità di tassi. Quindi secondo alcuni magistrati è un delinquente e anche cretino. Detto questo passo la parola agli altri redatori sperando insomma che abbiano in qualche modo apprezzato il lavoro che ho fatto. Grazie. Grazie Eugenio. Io credo che questo testo vada letto con particolare attenzione anche perché permette di analizzare delle anomalie italiane in quest'ultimo ventennio. La prima anomalia, salutiamo l'onorevole Palmieri che ci lascia, la prima anomalia è ovviamente il rapporto fra l'ufficio inquirente e gli organi di informazione che è un rapporto malato che negli anni, ormai l'avete visto nell'ultima settimana la fuga di notizie per l'indagine CONSIP che è un'intera informativa di oltre mille pagine è finita sui giornali. Però l'antefatto è proprio nei processi di Berlusconi, nel primo processo nel 1994 quando all'epoca Presidente del Consiglio presideva appunto il vertice a Napoli sulla criminalità con il capitistato di governo dei paesi del G7, fu indagato per corruzione e l'avviso di garanzia gli fu notificato la mattina che iniziava il vertice a Napoli a mezzo stampa, a mezzo appunto edicole nazionali tramite un articolo che fece allora il Corriere della Sera. Io abbiamo qui la fortuna di avere il direttore Sanzonetti che in quella stagione l'ha vissuta da protagonista, lavorava all'unità e quindi io chiederei a lui di spiegarci, di raccontarci come andò e come poi appunto la situazione si è evoluta, ho fatto l'esempio appunto del processo CONSIP della scorsa settimana, dell'indagine CONSIP, scusate, finita tutta quanta sui giornali e quindi da questo antefatto che ha fatto storia e che poi di fatto la situazione è sotto gli occhi di tutti, nessun correttivo è stato mai posto, le fughe di notizia sono all'ordine del giorno e creano dei documenti perché comunque la condanna avviene prima sui giornali che nelle aule del dibattimento. Prego. Grazie, sì, soprattutto è un libro molto utile, utile perché serve a lavorare, serve a lavorare se vogliamo capire che è successo in questi anni. Io vorrei dire parecchie cose ma schematicamente. Beh, la prima è di prendere atto della genialità che avete avuto nel presentare oggi questo libro perché oggi è praticamente caduta la legge Severino. La Camera dei Deputati per la prima volta da tanti anni ha deciso che non deve necessariamente eseguire gli ordini del fatto quotidiano e non ha concesso la decadenza di Augusto Minzolini, come sapete c'era tutta la questione, ha negato la Severino, ha negato quello che invece, quando è stato tre anni fa, aveva portato alla decadenza di Berlusconi e naturalmente non aveva portato solo la decadenza dei Berlusconi, ma aveva portato alla modifica dei rapporti di forza nella lotta politica italiana. Questo aveva portato. Io ho scritto recentemente, il giorno prima che sul mio giornale Iacobazzi recensisse questo libro, non sapevo che stavo uscendo questo libro, il giorno prima mi pare, ho scritto un articolo nel quale facevo questa semplice considerazione che negli anni nei quali a Torino si esauriva inutilmente cadendo in prescrizione il processo contro uno stupratore, l'avete letto sicuramente perché c'è stata una polemica, perché la prescrizione, che vergogna, com'è che vergogna sono passati vent'anni, la vergogna non è che c'è la prescrizione, la vergogna è che in vent'anni non si era riusciti a fare un processo per stupro. Soprattutto perché poi Cipolla mi dice che in quegli stessi vent'anni si sono fatti sessanta processi a Berlusconi, sessanta processi, non si è riusciti a fare un processo per stupro ma si è riusciti a fare sessanta. Sono dati che contano perché ci raccontano come è stato l'intreccio fra lotta politica e iniziativa, bisogna sempre dire mediatico giudiziaria, tu citavi in 94, adesso ci arriviamo, iniziativa giudiziaria, ma iniziativa mediatico giudiziaria perché il potere giudiziario non sarebbe quello che è se non avesse maturato e fatto valere un'alleanza di ferro con una parte consistente della stampa italiana, consistente, non solo, ma di un pezzo di stampa italiana spesso trasversale, non solo la stampa di sinistra, la stampa di destra e di sinistra. Io adesso lui prima per me era fatto una battuta sul fatto che era la sinistra di Iacobazzi, ve lo spiego meglio, io nella mia vita ho votato nei primi vent'anni, fra i venti e i quarant'anni ho sempre votato PC, poi l'anno levato non potevo più votare, se no avrei continuato. Dopo ho votato per il PDS, ho votato per rifondazione, ho votato per Sello, un paio di volte radicale. Quando proprio mi sono spinto a destra ho votato radicale, un paio di volte ma mai da solo, erano sempre Camera e Senato dopo un voto radicale, quindi diciamo sono sempre stato piuttosto lontano politicamente da Berlusconi o dal centrodestra, ma non è questa la questione, non c'entra niente, non c'entra niente essere di destra o di sinistra, essere per il Job Act o per la riforma dell'articolo 18 o per i sindacati o per... c'entra essere per una lotta politica pulita. La lotta politica garantisce i più deboli solo se è pulita. È una balla che la lotta politica garantisce a seconda di come la svolgi i partiti che in quel momento sono... non è vero, la lotta politica garantisce i più deboli ed è vera lotta politica e quindi è vera espressione di democrazia solo se è pulita e quindi se è libera e quindi se è democratica. E democratica vuol dire garantista. Io tante volte ho insistito anche scrivendo su questo punto. Il garantismo non è una delle possibili posizioni politiche in una battaglia democratica. Il garantismo è una costola, un pilastro della democrazia. Non esiste democrazia senza garantismo. Non è vero che esiste un confronto democratico, esiste in democrazia un confronto fra giustizialismo e garantismo. Il giustizialismo comunque è un'ideologia, è una delle poche ideologie rimaste, è caduto il comunismo, è caduto il fascismo, è di quel genere lì. È un'ideologia che limita la democrazia, limita e ferisce la democrazia. Il garantismo è la garanzia. Qual è la differenza? Il giustizialismo punta allo stato etico. Il garantismo vuole lo stato di diritto. La differenza tra stato di diritto e stato etico è immensa. Non sono due ipotesi conciliabili. Lo stato di diritto si basa sulla certezza del diritto, lo statico etico si basa sulla variabilità dell'etica. Perché l'etica non è una sola e l'etica dipende dal potere, l'etica di stato dipende dal potere. Il garantismo e lo stato di diritto non dipendono dal potere, è il potere che dipende dallo stato di diritto, non viceversa. Tutta la storia dell'ultimo quarto di secolo in Italia va in quella direzione, dello smantellamento dello stato di diritto e la storia dei processi a Berlusconi è l'autostrada sulla quale è passata questa idea. Tu citavi il 94. Il 94 viene due anni dopo il 92 perché la storia dell'Italia giustizialista, nel senso più forte, inizia nel 92 come sapete con Tangentopoli. Il primo Moloch da abbattere è Bettino Craxi che viene abbattuto molto rapidamente. Il 94 forse era già, quando ci fu l'avviso di garanzia a Berlusconi mi pare che Craxi fosse già andato in Tunisia. Perché no? Mi pare dell'aprile del 94, invece l'avviso di garanzia a Berlusconi è del dicembre del 94, dopo che Berlusconi ha vinto delle elezioni molto combattute, perché poi le elezioni del 94 non furono elezioni semplici. In realtà Berlusconi neanche le vinse, fu una specie di pareggio. Poi ci furono degli spostamenti successivi, un pezzo del patto segni, che era un pezzetto di democrazia cristiana, uscì e passò con Berlusconi. Le elezioni del 94 sono le prime elezioni dopo il terremoto di Tangentopoli che abbatte in Italia il sistema dei partiti politici. Io sono convinto che lo abbatte, che da allora non esiste più il sistema dei partiti politici. Esiste un altro sistema dentro il quale sono nate anche organizzazioni molto forti e importanti come è stata Forza Italia, come è stato il Partito Democratico, ma non sono i partiti e il sistema dei partiti precedenti. Il sistema dei partiti precedenti era un sistema che incarnava la democrazia. La democrazia italiana si incarnava nel sistema dei partiti e anche dei partiti più autoritari, come potevano essere per esempio il PC o il Movimento Sociale. Erano partiti dentro i quali passava la struttura della democrazia. I partiti del dopo 92 non è che sono meno democratici, ma non sono più la rappresentazione della democrazia, hanno un altro compito, hanno il compito di organizzare il potere e di organizzare la lotta politica, non di organizzare la democrazia. La democrazia a quel punto resta sospesa, resta sospesa fra la politica che si riorganizza attraverso strumenti che non sono più i partiti da una parte e la coppia fissa magistratura stampa che assume una parte consistente del potere e comunque si arroga il diritto di condizionare e determinare il potere politico e la scelta delle classi dirigenti. Per questo io sottolineo particolarmente il fatto di oggi. La decisione, credo, io non ho visto esattamente i voti, ma credo che siano stati decisivi i voti di alcuni deputati del PD che hanno votato contro la decadenza di Minzolini e di fatto hanno votato a favore della decadenza della legge Severino, che veramente riapre tutto. Ieri c'è stato il voto su Lotti, che oggi è stato il voto su Minzolini, si riapre completamente una questione. È una questione che per questo è importante questo libro, perché uno lo legge e vede, e poi io diciamo l'ho vissuta tutta questa vicenda e quindi ho un po' di memoria, mi ricordo, però non mi ricordo mai tutti. Qui ti aiuta a ricostruire effettivamente come è stata questa storia e quindi come è stata una battaglia politica nella quale da una parte c'era uno schieramento che ha fatto battaglia politica piuttosto liberamente e dall'altra c'era uno schieramento guidato da Berlusconi che ha fatto politica con la zavorra dell'attacco, non degli avversari politici ma del potere giudiziario. Io, peraltro, l'uomo di sinistra, una mia tesi un po' paradossale è che è stato il dramma della sinistra. La sinistra è scomparsa perché ha smesso di fare lotta politica. Dal 1992 la sinistra ha smesso di fare lotta politica perché si è messa, diciamo, si è schierata dietro le toghe avanzando piano piano a seconda che le toghe andassero avanti o andassero indietro. Io sono convinto che la genialità del berlusconismo è stata abbattere la sinistra attraverso l'anti-berlusconismo, la più grande e fantasiosa idea politica di berlusconismo. È stato creare l'anti-berlusconismo che è quello che ha devastato la sinistra italiana, anzi ma tante altre cose perché poi in realtà la sinistra non è scomparsa solo in Italia e quindi la questione è un po' più complessa. Basta guardare l'esito delle elezioni olandese dove il Partito Socialista è scomparso. Però in Italia c'è stata questa vicenda e in Italia la magistratura ha fatto delle grandi scelte e ha determinato in alcune fasi gli equilibri politici e il potere in Italia. È la storia da quando Berlusconi rivince le elezioni nel 2008 e agli anni successivi una storia in cui la magistratura decide assolutamente tutto. Fa cadere il governo Berlusconi insieme ad altre spinte, spinte della finanza perché poi, vadate, in questa vicenda c'entra sempre la finanza. La finanza è una parte dell'impresa dal 1992 in poi, se noi parliamo dell'alleanza fra stampa e magistratura dobbiamo stare attenti a che ruolo ha avuto dietro questa alleanza una parte dell'imprenditoria italiana e una parte della grande finanza italiana. Perché l'alleanza che fu stabilita nel 1993 circa, quando i magistrati di Mani Pulite arrestano due, tre, quattro uomini fiat, arrestano per ventiquattro ore persino De Benedetti. Poi li scarcerano, De Benedetti dopo ventiquattro ore, gli uomini fiat, adesso non mi ricordo i nomi, ma erano il numero due, il numero tre, il numero quattro della fiat, non era robina da niente. I rominti non hanno mai arrestato, però anche lui fu interrogato per ore e ore e a un certo momento scatta il patto. Non si sfiora più nella finanza dell'imprenditoria e tutti i giornali italiani passano dalla parte della magistratura. Io allora ero condirettore o vice direttore non mi ricordo dell'unità e ho raccontato altre volte che esisteva una specie di spectra dei giornali italiani che era costituita dalle direzioni dell'unità, della stampa, del Corriere della Sera e di Repubblica, che tutti i pomeriggi concordavano titoli, articoli ed editoriali e linea politica. Concordavano per telefono tutti i pomeriggi. Il direttore del Corriere della Sera era Paolo Mieli, il direttore della stampa Rezio Mauro, il direttore della novità era Walter Veltrovi. La politica in quel momento non contava più niente, anche nel PC, anche il PDS contava molto poco perché erano stati tutti destabilizzati. I giornali contavano moltissimo. Ho raccontato di come fu affossato un certo decreto che si chiamava il decreto CONSO. Era un decreto che nel 1993, secondo me nel 93, o forse nel 94, ma direi nel 93, prevedeva la depenalizzazione del reato di finanziamento illecito dei partiti. Era un decreto che voleva porre un po' d'ordine nell'inchiesta manipulita dicendo continuate a perseguire i reati di corruzione, ma sospendiamo i reati di finanziamento illecito che sono vastissimi e che riguardano tutti perché altrimenti non si va da nessuna parte. Facciamo una sanzione amministrativa, ma il decreto era approvato da tutti, arrivò sui tavoli dei giornali e un giro di telefonate alle 7 di sera ha affossato quel decreto. Si è deciso che tutti i giornali avrebbero sparato sul decreto CONSO, la mattina dopo tutti i giornali sparavano sul decreto CONSO e pomeriggio il Presidente della Repubblica Scalfaro annunciò che non l'avrebbe firmato. Il decreto CONSO non passò e da quel momento davvero esplose la parte più massiccia, anche se forse quella meno famosa, di Tangentopoli e da quel momento in poi la magistratura ebbe davvero il bastone in mano, lo scettro in mano. La magistratura, i giornali che avevano appoggiato, l'imprenditore, che voi sapete che in Italia non è che ci sono gli editori, non è come nel resto del mondo dove ci sono gli editori. Gli editori sono imprenditori, finanzieri, palazzinari, l'editoria pura, Giacobazzi lo sa, è solo l'editore del dubbio, è l'unico editore puro che c'è essendo un'organizzazione, una fondazione culturale. Nasce allora e da allora, e poi, e finisco, le sentenze fondamentali sono due. Una è la sentenza nel processo che contrappone Berlusconi e De Benedetti, quello in cui lui viene condannato a dare a De Benedetti non qualche milio, 250 milioni, 260 milioni, una cifra di questo genere. Poi sono scesi mi pare, 500 che poi, e quel decreto diciamo, oltre a indebolire Berlusconi, lo dico col cuore che mi sanguina, è uno scherzo ma fino a un certo punto, ha cambiato i rapporti di forza nel calcio italiano, perché i quei 250 milioni che avveriscono sono stati la fine del Milan, è l'inizio della dittatura juventina. Io non dico scherzando, ma non scherzo fino a certo punto, perché la verità è molto meno importante, ovviamente, di cosa è successo in politica, però è successo esattamente così, perché da quel momento Berlusconi è smesso di investire, e comunque, insomma, è uno spostamento di denaro mostruoso, io non riesco neanche a concepirla, una cifra di questo genere. E poi, quando è stato, due anni dopo, la sentenza esposito, con la condanna per il caso che facevi poco fa, mi pare che sia, appunto, una versione fiscale del circa l'1% delle aziende, nel momento in cui Berlusconi era Presidente del Consiglio, quindi in cui ragionevolmente non è che proprio faceva le dichiarazioni, firmava, faceva i conti, sì, insomma, se anche l'ha firmato qualche volta, non credo che, mentre il Presidente del Consiglio facesse la dichiarazione delle tasse. In quegli anni esplode anche, negli stessi anni, il caso più clamoroso, che come sapete è il caso Rubbi, che avrebbe potuto portare anche a una lunga carcerazione di Berlusconi se fosse stata, se fosse stata resa esecutiva la sentenza di primo grado, che era a sette anni, non c'era indulto che teneva, non c'era affidamento, c'era... e poi sapete che in appello è in Cassazione. Io, figuratevi, per quella sentenza, voglio raccontare questo, perché Berlusconi è andata bene, a me è andata male, perché io ho scritto... nemmeno ho fatto un'intervista nella quale dicevo che, della sentenza di primo grado, dicevo che era una sentenza di tipo fascista, e le giudici che l'avevano emessa mi hanno fatto causa, e sebbene nel frattempo, per due volte, sia la Corte d'Appello che la Cassazione, avessero letto il grosso modo, avevo ragione, diciamo, sono riuscito a levarmi 150 mila euro, che per me vuol dire che di qui all'eternità un quinto della pensione va a queste due magistrate, che hanno sbagliato la sentenza, hanno fatto un... e di più prendono i soldi, non solo da me, ne prendono molti di più, perché hanno vinto con Piero Stellino, hanno vinto con Giuliano Ferrara, quindi prenderanno circa 100, 100... grazie, sarà giusta la sentenza, nessuno gli diceva nulla, non vedevano una lira, invece avendola sbagliata, si sono prese le critiche dei giornali, e ogni giornale che l'ha criticata guadagneranno circa 100, no, lo dico, questo è chiaramente per ritorzione, nel senso che ovviamente c'è una... però è così, sono cose impressionanti, ho chiacchierato troppo, no, per questo fra l'altro ti ringrazio, non solo perché è un bel libro, ma anche perché è utilissimo, perché serve effettivamente, in Italia spessissimo si discute di politica dicendo sciocchezze, cose sentite dire, cose... e invece se... io adesso probabilmente ho opinioni diversi da molte di voi su questo tema, ma in questi giorni sono stato molto impegnato nella discussione sul diritto alla legittima difesa, e mi rendo conto che quando si discute nessuno conosce le leggi, nessuno si ha letto le leggi, nessuno si ha letto le leggi nostre, di là dei pareri che si ha, le leggi degli altri paesi, si discute, ma anche in televisione, anche senza minimamente conoscere le cose, per questo... i libri così ne servirebbero tanti, nel senso fra l'altro si legge facilmente, è un libro breve, però non è che ci fa capire, ci dà gli strumenti per valutare questo 25ennio, siccome questo 25ennio, se dobbiamo oggi fare i conti, finisce con la caduta della legge Severino, con i primi atti di dignità da parte del Parlamento, io considero un atto di dignità anche ieri il fatto che si è stata respinta la mozione contro Lotti, non ho particolare simpatia per Lotti, ma ho particolare simpatia per chi pensa che un avviso di garanzia non sia una condanna, non solo non sia una condanna, ma quando una persona è indagata, non è nemmeno accusata, dice è accusato di, no, è indagato per, non è accusato di, dopo il rinvio in giudizio già potremmo dire è accusato di, ma quando si apre un'indagine, si apre un'indagine, generalmente poi in Italia c'è questa cretinata dell'obbligatorietà dell'azione penale, che è una cretinata, è certamente una cretinata, e per cui non si può fare altro che aprire un'indagine. Sono stati due voti che mi hanno un po' riaperto il cuore, quello di ieri a favore di Lotti e quello di oggi a favore di Augusto Menzolini. Però si chiude questo quindicennio, un quindicennio in cui la lotta politica era truccata, anche la lotta economica era truccata, e nel quale io sono convinto, chiudo dicendo una cosa, io sono convinto che si è svolta una battaglia furibonda, non tanto fra sinistra e destra, perché questo è stato il fatto più secondario, meno io sono convinto che non... si è svolta una lotta furibonda fra il potere politico e il potere giudiziario, e si è svolta una lotta furibonda all'interno del gota della borghesia italiana. Io di questo ne sono assolutamente sicuro. Nel 1994, quando è apparso Berlusconi all'orizzonte, e quando Berlusconi è iniziato a prendere la guida di un pezzo della borghesia italiana, c'è stato il pezzo più tradizionale, più vecchio, per capirci, della borghesia torinese, che questo non lo ha mandato giù, non lo ha accettato e ha fatto una guerra senza quartiere, è stata una lotta senza quartiere per la leadership della borghesia, che è stata condotta con mezzi sleali da parte di un pezzo della borghesia italiana. Noi oggi paghiamo un prezzo altissimo, paghiamo un prezzo altissimo, perché tutta la storia della Seconda Repubblica è una storia di lotta politica taroccata, e questa lotta politica taroccata non era così nella Prima Repubblica. La lotta fra la DC e il PC fu sempre leale, non fu mai, può essere stata spietata, ma è stata una lotta leale e una lotta politica che ha permesso all'Italia di essere governata, di essere governata, talvolta più da destra, talvolta più da sinistra, ma di essere governata. La lotta politica nella Seconda Repubblica non è stata una lotta leale e non ha permesso all'Italia di essere governata. L'alternanza non ha funzionato, perché non era un'alternanza di linee politiche, era un'alternanza di gruppi dirigenti che si combattevano e cercavano di annientarsi. E questo ha portato a un grave ritardo dell'Italia. Se oggi l'Italia, che alla fine della Prima Repubblica era in grande crescita, era diventata la quinta potenza mondiale, stava veramente entrando, se oggi l'Italia non è più la quinta potenza mondiale, ed è un paese fondamentalmente in decadenza, non esageriamo, non è una decadenza, però è fondamentalmente in decadenza, almeno da 15-20 anni, io credo che questa sia la conseguenza di ciò che Cipolla racconta molto bene e dimostra, dimostra, non è che possiamo discutere, questo non è un libro di tesi, un libro ideologico, è un libro che racconta dei fatti. Questi fatti sono alla base di quello che è successo. Basta, parlavo troppo. L'illustrazione del direttore è sempre affascinante, anche perché in quegli anni il direttore c'era, l'episodio del 94 in cui i quattro grandi giornali italiani concordavano le notizie, credo che faccia riflettere sullo stato della libertà di informazione in questo paese. Io ho un altro tema secondo me, poi appunto la domanda che faccio al collega del tempo, riallacciandomi a un altro episodio attuale, oggi abbiamo detto della legge Severino, ieri è stata approvata in Senato il DDL penale, un DDL che modifica alcune norme di diritto sostanziale del codice penale, fra cui appunto modifica la prescrizione del reato. La prescrizione del reato è stata modificata, ci sono adesso certi fatti specie, soprattutto nei reati commessi dai pubblici ufficiali, lunghissima come prescrizione, un reato di corruzione ma soprattutto di concussione arriva quasi a 23 anni prima la prescrizione del reato, era 12 e praticamente più che è raddoppiato. La razio qual è stata? Su richiesta pressante dell'Associazione Nazionale Magistrati che non si fa in tempo a celebrare i processi. Il processo richiede tempo, c'è bisogno quindi, non è possibile l'attuale impianto che prevede appunto che il reato scada come lo yogurt dopo un certo lasso temporale, poi bisogna anche fare una precisazione perché ci sono certi reati che non si prescrivono mai, cioè reati di omicidio, reati di sangue non si prescrivono mai, quindi stiamo parlando di altri reati. Questi reati comunque adesso hanno dei tempi lunghissimi, il motivo quindi come ho detto è che non c'era tempo per celebrare i processi. Riallacciandomi a quello che è stato detto fino adesso, è stato detto appunto il processo dei diritti televisivi, processo appunto Mediaset. Beh in un anno Berlusconi ha avuto tre gradi di giudizio. Io quindi chiederei al collega del tempo che sui tempi processuali della cronaca giudiziaria, perché qui abbiamo dei processi che hanno una corsia preferenziale, come ha detto prima il direttore in Italia c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, quindi tutti i processi dovrebbero essere perseguiti, cioè dovrebbero essere eseguiti nello stesso identica maniera. Questi processi a Berlusconi invece hanno avuto una corsia preferenziale, quindi scavalcando tanti altri dibattimenti, perché in un anno ripeto sono stati celebrati tre gradi di giudizio, addirittura la Cassazione, come diceva prima, che ha poi causato con la sentenza la decadenza di Berlusconi dal Parlamento, dal Senato, fu celebrata nella sessione feriale, la sentenza esposica è di agosto del 2013. Ecco io quindi lascerei la parola al collega del Tempo, una riflessione appunto sui processi di Berlusconi, i tempi e soprattutto, ecco un altro appunto, mi permetto e poi ti lascio la parola, dello sforzo investigativo che è stato messo in campo, perché nei processi a Berlusconi lo Stato, la pubblica accusa, ha messo in campo credo neanche per i processi di mafia, il processo Rubi, il numero delle intercettazioni telefoniche effettuate, il numero dei servizi di osservazione di pedinamento di tutte le persone che frequentavano la villa di Arcore, dove Berlusconi il lunedì sera, questo termine delle scene eleganti poi è passato nell'immaginario collettivo, non è uguale, uno sforzo quindi della procura della Repubblica di Milano, della polizia giudiziaria, quindi valanghe di intercettazioni effettuate, pedinamenti, localizzazione satellitare, soltanto per sapere che cosa faceva Berlusconi lunedì sera, prima di partire appunto per Roma il martedì mattina a casa sua. Ecco. Solo brevissimamente per leggervi due righe dell'articolo 111 della Costituzione che dice la giurisdizione si attua mediante il giusto processo, la legge ne assicura la ragionevole durata. 23 anni per un processo di corruzione sfido chiunque a sostenere apertamente che è una ragionevole durata, la legge che è stata approvata è sicuramente incostituzionale. Non è una mia opinione, non lo so, io lo leggo e lo rileggo questo articolo, o sommato io oppure non riesco a capire come possano dei legislatori approvare una legge se lo conoscono o non lo conoscono, è veramente inspiegabile. Non si può pensare che è una ragionevole durata 23 anni per un reato di corruzione, non lo può pensare nessuno, nessuno lo può pensare. Scusa, te l'ho interrotto, ma siccome ha citato il fatto... Grazie. Innanzitutto mi preme associarmi al ricordo che ha fatto Eugenio di suo papà perché lo conoscevo come professionista, bravo, impegnato, serio e quindi lo ricordo anch'io. Poi faccio i complimenti ad Eugenio perché questo è un libro molto importante da compulsare, da leggere, da sottolineare e credo che se noi dovessimo dedicare un'enciclopedia storica e politica a tutto quello che è successo negli ultimi 25 anni, perché quest'anno è il venticinquesimo di Tangentopoli, amaro anniversario, questo libro sicuramente vi si collocherebbe. Parto dalla richiesta e dalla domanda interessante del collega sullo sforzo investigativo, le intercettazioni e poi anche il connubio che prima citava il direttore Sanzonetti, mediatico giudiziario. Perché questo sforzo investigativo? Perché anche questo zelo nella resa di certi elementi, se così vogliamo, di colore pruriginosi, perché tutto questo serviva, secondo me, a comporre quel grande romanzone morale che la magistratura ha voluto scrivere da 25 anni a questa parte. Perché giustamente il direttore Sanzonetti ha preso un articolo della Costituzione, l'articolo 111, dicendo che è incompatibile con una prescrizione lunga. È vero. È vero ed è vero anche, vedendo quello che è successo negli ultimi 25 anni, che è la magistratura stessa che in un certo senso si è imposta come potere pseudocostituente. Vale a dire un potere che fosse in grado di ribaltare assetti politici, ribaltare governi, mandare in soffitta dei partiti che comunque avevano costituito l'architettura democratica per quasi 50 anni e soprattutto dettare delle leggi morali che andassero a consolare e a nutrire una parte delle aspettative dei cittadini. Com'è cominciato tutto nel 92? Nel 92 è cominciato tutto innanzitutto da una latente ma reale debolezza dei partiti e poi è cominciato da questo circolo mediatico giudiziario che in un certo senso consolava la voglia di una parte dei cittadini di vedere il potente azzoppato che in quel momento, anche dal punto di vista di metafora fisica, di stereotipo, era individuato in Craxi. Voleva vedere una classe dirigente che finora si era posta come inarrivabile, irraggiungibile, potente, la voleva vedere per strada, la voleva vedere rovinata e godeva tutte le mattine quando c'era quella scansione di arresti che veniva dai telegiornali. Perché Tangentopoli fu un grande fenomeno nazional popolare, fu una specie di festival di Sanremo delle Manette, passatemi il termine. Il direttore Sanzonetti era cronista, io ero un bambino che però vedeva spesso la televisione, io mi ricordo tutte le mattine prima di andare a scuola c'era l'elenco degli arrestati, l'elenco degli indagati e la sera poi si vedevano queste immagini in successione anche nei processi in diretta dal Tribunale di Milano. fu una grande operazione mediatica nazional popolare, fu un'operazione mediatica sentimentale quella lì. E perché Berlusconi per tanti anni ha tenuto testa, al di là delle convinzioni, poi al di là degli assetti politici, degli errori, delle genialate, delle scivolate, perché lui ha saputo proporre un altro codice politico sentimentale che fosse in grado di captare il consenso. Mentre la magistratura sollevava appunto questa voglia di rivalza, questa latente aspettativa del vedere il potente azzoppato, non dimentichiamoci che noi siamo anche il paese di Masaniello, della Ferocia, il paese degli istinti belluini, Berlusconi aveva posto quello dello sviluppo, della ricchezza, della bellezza anche estetica, delle belle donne, della libertà e quindi ci furono dal punto di vista culturale questi due ideali che per anni si sono scontrati a livello mediatico e anche a livello politico. Chi ha vinto alla fine, mi sembra logico, ha vinto la magistratura, almeno dal punto di vista sostanziale, perché comunque Berlusconi è stato defenestrato dal Parlamento per via della legge Severino che è scattata a seguito di una sentenza. Poi dal punto di vista politico ne riparleremo, vedremo forse ancora non è il caso di dire l'ultima parola, però dal punto di vista sostanziale ha vinto la magistratura. E anche se oggi la foga mediatica riguardante il contrasto tra magistratura e politica è meno fervente rispetto a qualche anno fa, perché noi ricordiamo che c'era una guerra punica tutti i giorni, se ne parlava nelle trasmissioni, oggi mi sembra se ne parli un po' di meno rispetto a prima. Comunque a livello reale questa cosa non è cambiata. E anzi, noi vediamo che la magistratura sta segnando dei gol molto importanti dal punto di vista del suo tentativo di cambiare gli assetti della società. Noi abbiamo visto ad esempio sulle varie sentenze che hanno riguardato le adozioni per coppie omosessuali. Anche quello è un sintomo di come la magistratura si imponga come potere costituente. Si può essere d'accordo o meno, si può approvare o meno nelle determinate varianti di utero in affitto oppure di coppia adottiva, però ciò non toglie che la magistratura con delle sentenze che negli ultimi tempi sono state emesse, la più significativa è quella del Tribunale di Trento qualche giorno fa, qualche settimana fa, ha di fatto superato il dettato letterale e il fondamento dell'articolo 29 della Costituzione. Quindi questo è collegato ad un ruolo politico e costituente della magistratura che dobbiamo senz'altro imputare ad una debolezza della politica. Appena fatto prima il direttore Sanzonetti a dire che per vent'anni la sinistra si è trincerata dietro la magistratura perché era quella che riusciva probabilmente ad imprimere, ad infierire dei colpi più significativi al nemico. Ed è proprio questo il nodo. Come dall'altra parte nel centro-destra probabilmente da un lato la difesa d'oltranza del campanile che veniva attaccato tutte le volte, dall'altro una certa conflittualità interna hanno impedito di poter ragionare seriamente su delle riforme serie. Mentre dall'altro lato ancora la magistratura ha continuato ad espandere quella sua logica politica anche interna. E noi lo vediamo, basta che vediamo come funziona ad esempio il sistema del correntismo interno, il sistema delle procure, dei procuratori che vengono designati sulla base di un confronto interno tra correnti. E questo è una logica politica. Anche il fatto della mancata separazione delle carriere che alimenta questa grande coesione interna. C'era un libro che è stato pubblicato pochissimi anni fa, tipo due o tre anni fa nel 2014, che riportava un questionario svolto tra avvocati. Ebbene diceva che nel momento in cui il giudice giudicante deve decidere su una richiesta di intercettazioni del PM l'accoglie al 73% delle volte, 72,9. Quando un'altra questione era che circa il 30% mi pare degli avvocati denunciano di essere intercettati nei contatti con il loro cliente. Ecco, quindi anche in questo squilibrio si determina una preponderanza dell'azione condizionante della magistratura della società. Perché poi tutto questo, al di là dei numeri, al di là delle percentuali, al di là dei cavilli, si traduce nel fatto che quando uno viene investito alla grande malattia di affrontare un processo, chiaramente il suo avvocato parte da due passi indietro rispetto al PM. Quindi, ritornando a tutto, al discorso iniziale, è chiaro che finché la politica non si approprierà del suo ruolo, finché probabilmente non si smetterà di fare, di determinare un confronto politico a suon di contenuti delle intercettazioni, di idolatria dell'avviso di garanzia, idolatria degli atti processuali, e di tutto quello che ne determina, è chiaro che non si riuscirà mai a ripristinare un equilibrio tra poteri che fa parte della democrazia. Ricordiamo anche un'altra cosa, adesso così un flash. Nel 1994, l'ultimissima cosa, ci fu il decreto Biondi. Il decreto Biondi che toglieva l'assegnazione degli arresti, della custodia cautelare per determinati reati. Ebbene, quel decreto fu ritirato, fu approvato, ma morì dopo una conferenza stampa congiunta del Pool di Milano che minacciava dimissioni. Quindi, ecco, questo è il paradigma, come ne sono avvenute altre volte, tipo il famoso resistere, resistere, resistere di Borrelli, di questa anomalia che soltanto un primato politico... Posso dire una cosa, è stato, credo, l'errore più grande e la colpa maggiore che ha avuto Berlusconi, quella di ritirare quel decreto, perché sarebbe cambiata la storia successiva. Lì Berlusconi, e altre volte, ha ceduto. Ha ceduto e non ha permesso. Un decreto che era sicuramente giusto, il decreto Biondi. Non solo per quello che riguarda la corruzione, ma per quello che riguarda uno dei dranni, poi, della gestis italiana, che è l'eccesso di carcerazione preventiva. Lì, e lui, come altre volte, non ha avuto il coraggio di... Solo successivamente ha capito che era la battaglia di fondo. Lì lui non aveva ancora capito che quella era una battaglia di fondo. Ha commesso un errore che ha pagato poi tutta la vita. Ma peggio ancora dopo una conferenza stampa del Pool. Quello è proprio il simbolo della politica che si china alla magistratura. Quindi, ecco, il primato della politica è lo snodo difficile, ma necessario. Grazie. Molto bene. Io penso che abbiamo detto molte cose utili, una bellissima conferenza, grandi spunti di riflessione. Concludo soltanto, oltre che ringraziare Eugenio, perché ha fatto un'opera veramente incomiabile, soprattutto dal punto di vista documentale. C'è una ricerca di tutte le fonti che sono allegate alla fine del testo. E poi vorrei concludere con una chiosa. Non tutti quanti possono difendersi nel processo penale italiano. Soltanto pochi. Berlusconi è uno di quelli che si può difendere, perché ha risorse economiche, e ovviamente anche caratteriali. Moltissimi vengono schiacciati. E quindi io vorrei lasciarvi con questo spunto di riflessione. Io ho fatto un'intervista al generale Mario Mori, che è imputato da 15 anni a Palermo, in vari dibattimenti, l'ultimo ovviamente del processo trattativo a Stato-mafia. E lui la prima cosa che mi ha detto è io posso affrontare il PM di Matteo, che adesso è stato trasferito alla Procura Nazionale Antimafia, perché comunque sono un genio di carabinieri in pensione, prefetto, ho fatto il direttore dei servizi segreti, ho preso un'ottima liquidazione, prendo una bellissima pensione, e quindi posso permettermi di andare quasi tutte le settimane a Palermo, 500 euro soltanto di aereo, andato e ritorno, albergo, e c'è un avvocato che lavora soltanto per me. Perché fino adesso, sapete quante udienze sono state fatte nel processo trattativo a Stato-mafia? 190 udienze. Quindi fatevi un po' i conti. Ecco, detto questo, buon pomeriggio a tutti. Grazie.